Super Lega della Pallavolo, cubano, naturalizzato polacco e viva Vilfredo Leon, il più grande di tutti. Maurizio Colantoni. Vilfredo Leon, ti senti un po' il re di Perugia? In questo momento, in questo sedele, più o meno come il sindaco della città. Un cuore cubano, polacca però la sua nazionalità, l'Italia dal 2018, il suo futuro, Perugia la sua città. A Vilfredo Leon, che effetto fa essere definito lo schiacciatore più forte del mondo? Abbastanza forte, perché veramente quando si esce sulle strade si trova della gente che subito ti riconoscono, vogliono fare della foto, del video. Cos'è Perugia per Vilfredo Leon? Perugia in questo momento viene sendo come un'altra mia casa, perché sto facendo tutto di qua. Il lavoro, tante emozioni, poi è una città che ha dell'istoria bellissima. Chi è per te il campione? Il campione è quello che non mai lascia giù la testa, continua sempre a cercare il suo oggettivo. C'è paura di questo virus? La pallavolo sta riprendendo, ma come la pensa Vilfredo Leon? Non è che ho paura di me, ma ho paura della gente che si sono intorno a me, per esempio i miei bambini, la mia moglie, quando si arriverà il mio genitore, ho paura più per loro che per me. Grazie ragazzi, grazie Simone.